Fillon Gate, un'inchiesta che potrebbe cambiare il corso delle presidenziali francesi. Il candidato dei repubblicani François Fillon è stato interrogato dagli inquirenti insieme alla moglie per 5 ore lunedì. Ma stamattina la testata Canard & Cheney ha pubblicato nuove rivelazioni. Le somme che Penelope Fillon avrebbe guadagnato come assistente parlamentare sarebbero ancora più alte. Anche due suoi figli hanno avuto stipendi per incarichi pubblici. Quando ero un senatore ho avuto modo di pagare per due missioni specifiche dei miei figli che erano avvocati. Era ed è consentito dalla legge, quindi è legale. In totale la moglie del candidato repubblicano avrebbe ricevuto 831.444 euro. Sua figlia ne avrebbe ricevuti 57.084 centesimi e suo figlio 26.651, per un totale di 83.735 euro lordi, per le loro abilità come avvocati. Tuttavia risulta che al momento dell'ingaggio i figli fossero ancora studenti. E anche per Fillon la posizione si aggrava. Secondo l'attestata online indipendente Media Parti, infatti, il candidato repubblicano sarebbe ancora oggi, dal 2012, consigliere per importanti società quotate nella borsa francese, quelle del CAC 40, posizione che il diretto interessato non aveva mai rivelato di ricoprire. Fillon si sente una vittima. Non si è mai verificata una situazione del genere, non a meno di tre mesi dalle elezioni presidenziali. Un'operazione enorme, montata per eliminare un candidato, usando vie diverse da quelle democratiche. Ora la magistratura dovrà pronunciarsi. Dopo le rivelazioni giornalistiche, la Procura di Parigi ha aperto un fascicolo per appropriazione indebita ed abuso d'ufficio. Ma i tempi delle indagini sono lunghi ed eventuali rinvii a giudizio non arriveranno prima delle elezioni. Allo momento c'è solo un'indagine preliminare. Fillon e i repubblicani dovranno decidere dunque, secondo coscienza, il da farsi. Il partito per il momento si stringe ufficialmente intorno al suo candidato, ma dietro le quinte si pensa a un piano B. C'è chi fa il nome di Alain Juppé, che però fu condannato nel 2005 per incarichi fittizi. Inoltre c'è il nodo dell'età. Juppé, infatti, ha 71 anni. Ai repubblicani, in caso, serve un candidato più giovane, di certo sotto i 60, che possa tenere testa agli altri. Hamon, 49, Emmanuel Macron, addirittura 39. Per ora, grande attenzione al lavoro della Procura, ma la chiusura delle indagini è di là da venire. Forse più interessanti rivelazioni arriveranno dalle inchieste giornalistiche.